Stando alle accuse, alcuni ospiti venivano chiusi a chiave nelle loro stanze per un'intera giornata, altri venivano sedati o legati al letto con i lacci. Quando dovevano lavarsi venivano fatti spogliare completamente e messi in fila nel corridoio. Alcuni di loro erano costretti a dormire su letti privi di materasso o sull'enzuola sporche in condizioni igieniche precarie e chi non obbediva alle direttive di infermiere e operatori sociosanitari veniva percosso. Le indagini dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Campobasso, coordinate dal sostituto procuratore di Sernia Federico Scioli, sono partite all'incirca un anno fa. Al centro dell'inchiesta la residenza sociosanitaria per anziani di Montaquila. Tra gli ospiti anche persone colpite dalla malattia di Alzheimer e giovani tra i 25 e i 40 anni affetti da problemi psichici o neurologici. Si parla di circa 180 persone assistite, a quanto pare oltre il massimo consentito, per una retta di 1200 euro al mese. Nelle prime ore di questa mattina i militari del NAS del capologo di Regione Molisano, di Napoli, Bari, Salerno e Foggia, oltre ai colleghi dei comandi provinciali dell'arma di Sernia e Campobasso, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Sernia. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per 13 persone, tra loro Francesco Rossi, titolare di fatto e medico della struttura, oltre che sindaco di Montaquila. I reati ipotizzati sono di maltrattamenti, sequestro di persona, lesioni percosse e abbandono di persone incapaci. Indagate a vario titolo anche altre 19 persone. In tutto sono 32 le persone coinvolte, tra medici, fisioterapisti, operatori sanitari, sociali e amministrativi della Residenza per Anziani. Decisive in questa inchiesta le immagini registrate dalle telecamere nascoste durante la fase delle indagini o nel corso di un'ispezione avvenuta nei mesi scorsi.